E' stata costituita lo scorso venerdì a Caltagirone la nuova compagnia aerea Aeroline Siciliane S.P.A. La compagnia è stata formalmente costituita alle ore 13.30 presso l'Istituto di Sociologia Luigi Sturzo, alla presenza dei soci riuniti in assemblea. Gli azionisti fondatori sono stati accolti da Luigi Crispino, anima del progetto per dare vita a una nuova compagnia aerea di bandiera dell'isola. La linea aziendale e la funzione sociale di Aeroline Siciliane e assicurare vantaggi al territorio, puntando alla creazione di una forte comunità regionale. Il piano economico prevede di acquisire 12 Airbus di classe A319, 320 e 321 e 3 Embraer 175 e 190. La struttura societaria, basata sull'azionariato diffuso e la responsabilità in capo al comitato di sorveglianza, rendono la nuova compagnia aerea non solo lo strumento per collegare la Sicilia al mondo con prezzi competitivi, ma anche una solida realtà di legalità e solidarietà economica. I siciliani che vorranno diventare azionisti della compagnia potranno richiedere di sottoscrivere le azioni compilando l'apposito modulo sul sito www.aeroline siciliane.it, cliccando sul menu soci. Il portavoce di Aeroline Siciliane, Claudio Melchiorre, ha annunciato la data del volo inaugurale. Sarà infatti un comiso Milano, schedulato per le 6.40 del 14 giugno 2020.